Poi possiamo andare? Vai, va là! Beh, cosa c'entra sto cazzo che mi fate sentire? Cosa, che cazzo che è qua sotto? Davanti a me vedo tutto meno che quello che dovrei vedere. Come si zammelo lì? Ah, non lo so io! Dio! Vaffanculo! Aspetta che mi calma perché... L'ho fatto apposta! Dio, porco di Dio! Porco Dio! Chissà che non mi incazza, eh? Dio, porco! Dio cane! Porco Dio! È possibile! Portanna la Madonna! Porco Dio! No, 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 no! Fai, mona! Dio ha sempre sei vantaggi di lunghezza. Dio, porco! Se venite avanti ancora vi do un pugno! Perché chi è che ha cerrato la porta? Dio cane! Porco Dio! Chi è che continua ad andare avanti in trio Dio cane con che la porta lì? Ma chi è che fa che cazzo del rumore lì? Dio boia! Dio... Dio cane! No, porco Dio! Dio cane! E non si riesce a capire un cazzo! Dio porco! Dio porco lo Dio! Dio porco Dio cane! Dio canoia di Dio! Senza le maiuscole! Senza i punti! Dio boia non torno mio in trio! Dio porca madonna di Dio! Anche Tite che ti mette a passare avanti Dio! Vaffanculo Dio porco! Porco Dio! Vaffanculo Dio e tutti quanti qui come Dio! No, ma è sopra evidentemente! Oh, scottito! Vai in mona, cortesia, simpatia, porco Dio! Vai cazzino! Vaffanculo! Ma che ho? Dio cane, ma non è possibile! Madonna puttana! Dio cane! Gaetano! Chiudi quella porta di qui, dai! Perché chi è che sarà la porta? Dio cane! Dio cane! Batte fangulo! Vaffanculo! Dai, vaffanculo! Dio, Dio cane! De Dio! Porca Dio! Ancora! Vaffanculo! Ostia, non venite dentro! Vaffanculo! Vaffanculo! Dio cane! Dio cane! Dio cane! Dio cane! Orco Dio! Orco Dio! Orco Dio! Dio voia! De Dio! Ancora! Vaffanculo! Vaffanculo! Chi è che continua ad andare avanti in rio Dio Can con che la porta lì? Eh, mi sono sentivo, mi sono distratto e sì eh! Dio schifoso Can! Madonna puttana! Dio porco Dio cane! De Dio! Ancora! Vaffanculo! Basta, basta, Dio! Eh, fermati! Eh, beh, da, là! Scandalostia! Dio! Ok, tu ancora! Vaffanculo! Madonna di Dio cane! Aspetta che mi fermo un attimo, eh! Aspetta che mi fermo un secondo, eh! Quando una volta la che va, mette che le va a poter dire via subito, no? Di Gaetano! Sì! Se io trovo quello che mi ha fatto innervosire di Ocange, da un pugno che spacco la testa, dì! Lo troverò quel deficiente, prima o dopo, eh! No! Sì! 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 Sì!